Siamo qui presenti alla grande sfida, Ramona contro il suo consorte Frenkie. Stiamo parlando di due tecniche diverse. Il presidente bagna la carta forno ed ha un'ampia passata d'olio. Mentre Ramona va sulla carta forno con una pallotta gigante da quasi due chili. In questo momento il presidente è nettamente indietro. Vi rimando alla seconda parte per vedere il risultato finale.